I cali sono agli ordini dello starter, non corre il 13, l'ete di giri falco restano in 14, fasi di lancio, parte lanciato New York Times, gli altri già a rete. Alla chiusura delle ali, dal largo dello schieramento, è proprio New York Times che assume l'iniziativa, lungo la corda l'inviene Orion. Poi anche Naturali B e più a largo Marley O.M. che va deciso su New York Times. Si accode in terza posizione Naturali B e diventa scomoda adesso per Marley O.M. Si è mossa subito Oriana Blu, 13 secchi in lancio. New York Times da strada ad Orion al completamento del primo quarto, ma interviene a largo Oriana Blu. Oriana potrebbe ottenere strada, vediamo come va, 30 il primo quarto. Di Vincenzo sembra opporsi per il momento, ma probabilmente darà il via libera alla favorita. 600, comunque più che solleciti, in 45 e mezzo. Oriana Blu attacca a fondo Orion, i due sono ancora apparigliati, o lo mandano o non lo mandano. E al completamento del giro di pista, in 59,7, Oriana Blu, 3 euro al totalizzatore e leader. Nei confronti di Orion, poi New York Times, in quarta posizione Naturali B. In quinta, Nebbiolo del Rio. Orion muove a largo di Oriana Blu, 15,4 il primo chilometro. Ritorna al comando Orion. Sta correndo da protagonista, forse troppo. Dalle retrovie si fa vivo Memo Rock, nonostante il ritmo. Ultima frazione in 16, scarsi. Orion, Oriana Blu, New York Times, Naturali B sollecitata. Poi Memo Rock, lungo la corda VP dell'Annunziata con Nebbiolo del Rio. Si riattacca alla mano del suo interprete, Orion. Una frazione in curva in 15,7. Prosegue di buona lena il leader, Oriana Blu lo insegue. Poi muove New York Times, che va a caccia di Orion. Poi Memo Rock, 400 alla conclusione, 2,1 e mezzo in miglio. Orion avvicinato da New York Times. New York Times ha le battute migliori. Poi Orion ed Oriana Blu. Poi il generoso Memo Rock. Retta d'arrivo, è passato New York Times. Su, Orion e Oriana che si ripropone. Metri finali, New York Times. aveva la perizia regalata. Al secondo, da protagonista, Orion è attaccato e probabilmente battuto da Oriana Blu. 4, 15,1 per i primi tre posti. Al quarto, il 12 di Memo Rock. E dal quinto, porta tanta ma tanta quota. Naturali B, che ha fatto un corzone. Mi dispiace. Su 5, ve ne ho dati 4. Naturali B, non ve lo dà. Non potevo fare tantissimo. Ma forse al quinto potrebbe non essere Naturali B. Ivan è al quinto e il 5 Naturali B. È così. Quindi avevo ragione io. Grazie. Buona serata a tutti. Ci siamo divertiti. Grosso spettacolo. E qualcuno avrà peso almeno il quartiere.